Per la questione delle cicogne nelle Canarie, ci vai tu? Sono otto cicogni rincoglionite che hanno sbagliato strada, ma chi se ne frega! Cicogne di merda! Polizzo! Via! 13 a 2, è una giornata meravigliosa e il sole è splendente! Dona, dove sono qui? Buongiorno! Cade subito? Filippo Fontana! Ti coi di me! No, tu stai stretto, non voglio che tutto il pianeta si accorga che sono quattro uccelli spelacchiati. Noi! 13 a 2, è una giornata meravigliosa e... Avete messo il nostro ieri? Buongiorno! La signora, lei ha mai avuto un piccolo? Non so, ma dovete in cucina? Filippo Fontana, ti coi di me? Ma è possibile che le cicogne qualcuno le usi per fare la macumba e il voodoo? 13 a 2, è una giornata meravigliosa e il culo.. Cerca anecdote! Si diverte! 13 agosto, è una giornata meravigliosa e flore sempre! Buongiorno! Topona! Vito, lontana, dica di me! Shhh! E adesso che succede? Succede che tra poco ci attorniamo e io mi svecchierò da sola. Il sogno di tutti gli uomini.